Musica Temperature al di sopra della media oggi nel Tiguglio, ma è confermata l'irruzione di aria siberiana che porterà valori sotto zero anche sulla costa e qualche fiocco di neve. Allerta gialla sulla zona costiera. In previsione del grande freddo è stato ampliato il servizio del dormitorio Casa Bruzzone di Chiavari. A Rapallo messo a disposizione il salone della Casa della Gioventù, tre posti letto anche a Santa Margherita Ligure. Argini, delentella e depuratore alla foce sono state fatte le valutazioni ambientali. Se lo chiedono i cittadini di Lavagna, i documenti sono necessari per capire, confermano i tecnici dell'università. Si è rinnovata a Genova la via Crucis cittadina, ospitata nella chiesa di Santa Zita. Nella sua riflessione il Cardinal Bagnasco ha invitato alla preghiera e ad essere operai della pace. Dio solo basta, la frase pronunciata dal beato Tommaso Reggio, richiamata questa mattina in cattedrale dal Vescovo, celebrato il bicentenario della nascita del fondatore delle suore di Santa Marta. Serie B, la Virtus Entella pareggia 0-0 a Carpi. È un punto che sta stretto, commenta la società. Bianco Celesti padroni del campo, ma sfortunati in zona gol. Buonasera a tutti, bentornati a Tigulio Oggi. La protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per neve da mezzanotte sino alle 13 di domani. Sono compresi tutti i bacini liguri ad esclusione della Val Daveto. Secondo gli esperti, le nevicate interesseranno in particolare le zone costiere. I fiocchi bianchi in queste ore sono caduti soprattutto nell'entroterra di Savona e nella zona a cavallo con la provincia di Genova. Per domani occorrerà fare attenzione soprattutto alle gelate che saranno diffuse, in quanto la massa d'aria in arrivo e che resterà sulla Liguria almeno per 72 ore sarà molto fredda. I venti forti settentrionali renderanno ancora più acuta la sensazione di disagio. Oggi intanto il tempo non ha mancato di sorprendere, con temperature questa volta al di sopra della media stagionale. Ma su tutti i dettagli sentiamo l'esperto meteo. Del freddo per ora di grande c'è solo l'attesa. In più di una persona questa mattina passeggiando lungo la costa del Tigulio non ha mancato di stupirsi per le temperature mitiche che si sono percepite superiori alla media del periodo. Ma attenzione a non illudersi. L'ondata di freddo siberiano che già nelle vallate del Genovese si sta facendo sentire è ormai alle porte e da domani già che i cappotti rispetto a questa mattina dovranno essere ben allacciati anche in riva al mare. Ci aspettiamo delle minime negative soprattutto per la giornata di martedì e mercoledì. Ma l'aria fredda inizierà a fluire sul nord Italia e anche sulla nostra regione, ormai è una cosa certa, da domani. Ecco, da domani nel corso della giornata sentiremo proprio a pelle che la temperatura tenderà a calare proprio durante la giornata. Ecco, quindi inizierà a sentirsi più freddo a partire dalla tarda mattinata, pomeriggio. Nella giornata di domani, proprio a causa dell'ingresso dell'aria fredda, si potranno verificare anche degli sporadici episodi perturbati con spruzzati di neve che potrebbero interessare anche la collina. Non si può escludere, qualora ci fossero questi rovesci, queste precipitazioni, anche qualche sfiocchettata o coreografia, diciamo così, anche sul Tiguglio o lato costa, soprattutto nel pomeriggio sera. Dopodiché che cosa succederà per la metà della settimana? Ci aspettiamo un peggioramento, diciamo, delle condizioni meteo a partire da mercoledì, soprattutto seconda parte di mercoledì, con il clou, diciamo, del fenomeno previsti per il giovedì, primo marzo, dove, insomma, è ancora presto per andare nei dettagli, però, diciamo, la neve sarà una cosa molto probabile, soprattutto tra Genova e Savona. Ecco, per il Tiguglio ovviamente bisognerà fare dei distingui, però, insomma, magari in una primissima parte, tra mercoledì e giovedì, qualche fiocco, qualche sfiocchettata, sarà possibile anche sotto costa. Continuiamo a parlare di freddo. Parrocchie e denti della diocesi si preparano ad accogliere le persone senza fissa dimora, per consentire loro di trascorrere la notte al coperto in un ambiente riscaldato. Il punto di riferimento resta il dormitorio diocesano di Casa Abruzzone a Chiavari. Sentiamo. Il dormitorio diocesano di Casa Abruzzone a Chiavari, che già in queste notti sta ospitando una decina di senza fissa dimora, sarà a disposizione di quanti, in previsione delle geli di notte della settimana prossima, si troveranno in condizioni di necessità. Le persone potranno prenotarsi all'ufficio della Caritas diocesana in Via Vinelli, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.00. Potranno farlo anche contattando i servizi sociali del Comune di Chiavari, che si trovano in piazzale San Francesco dalle 9 alle 12 o telefonando allo 0185 365 360. Gli operatori registreranno le generalità degli ospiti, comunicandole al coordinatore del servizio di accoglienza del centro e li inviteranno a raggiungere alle 19.30 a Piazza Nostra Signora dell'Orto, davanti al Palazzo delle Poste, per usufruire del trasporto al dormitorio. Non solo, in caso di emergenza, al di fuori degli orari della Caritas e degli uffici comunali, la Polizia Municipale, anche dopo le 20, una volta registrate le generalità, potrà comunicarle al coordinatore del servizio e predisporre il trasporto gratuito della persona in difficoltà al dormitorio di San Pier di Canne. In rinforzo a questo servizio, a Rapallo saranno messi a disposizione i locali della Casa della Gioventù. Le porte saranno aperte a quanti ne faranno richiesta, fa sapere l'arcipriete di Rapallo, Don Stefano Curotto. Ci sarà la possibilità di dormire al caldo, rivolgendosi direttamente alla struttura, dalle 19.30 di sera fino alle 7 del mattino successivo. Tre posti letto, che sono disponibili anche a Santa Margherita Ligure, nei locali annessi alla Basilica. L'esperienza avviata da qualche tempo sta già dando ricovero a due persone. Qualora il Comune avesse delle segnalazioni, spiega Don Gian Emanuele Muratore, potremmo dare un'ulteriore ospitalità nei limiti consentiti dagli spazi a disposizione. Diversi comuni del territorio hanno già preso dei provvedimenti per quanto riguarda l'accensione dei termosifoni nelle abitazioni. L'ultimo in ordine di tempo che ci è arrivato è di Cogorno, dove gli impianti di riscaldamento potranno rimanere accesi per un massimo di 18 ore al giorno, sino a lunedì 5 marzo. Cambiamo tema. È stato fatto tutto quanto richiesto dalla legge in merito ai progetti dell'Argine, del Fiume Entella e del Depuratore alla Foce. Se lo chiedono i cittadini di Lavagna, che questa mattina hanno provato a fare il punto sulle due questioni. Portavoce della loro richiesta i tecnici dell'Università di Genova, che confermano come questi documenti di valutazione ambientale, sempre che siano stati fatti, non sono ad oggi resi pubblici. Sentiamo. Per valutare è necessario avere tutti i dati tecnici che mettono la gente nella condizione di dire sì, va bene o non va bene. Non si può, io non entro nel merito politico perché sono un tecnico. Certo è che 300.000 metri cubi del 2003 di sabbia non si può far finta che non esistano. Esistono le valutazioni di impatto ambientale e quella ambientale strategica per l'Argine della Sponda Lavagnese del Fiume Entella e per il Depuratore Comprensoriale alla Foce dello stesso Corso d'Acqua? Se ci sono, perché allora questi documenti non sono stati resi pubblici? Lo chiede una rappresentanza dei cittadini di Lavagna che questa mattina hanno approvato a fare il punto sullo stato dell'arte in merito a quella che comunemente viene chiamata la diga per figli. A supportare le loro richieste anche le posizioni degli esperti dell'Università di Genova che da anni denunciano una situazione ambientale che va risolta a Valle prima di attuare a Monte altri interventi. Sono anni che diciamo come Università e con diversi altri docenti universitari che è necessario assolutamente fare, prima di fare certe cose, fare altre opere. La prima è quella di togliere circa 900 metri di lunghezza per 17 metri di spessore di sedimenti che sono di fronte alla foce dell'Entella e se nel 2003 lo studio dell'Enea CNR aveva detto che c'erano circa 300.000 metri cubi di materiale adesso siamo nel 2018, sicuramente saranno aumentati. Qualunque opera che vada a incidere sulle riva o comunque sulla sua foce attualmente se non si leva questo tipo di cuneo di sedimenti non serve a niente. E tra le carenze progettuali legate al primo lotto dell'Argine del fiume Entella ancora fermo dopo i ricorsi al Tribunale delle Acque c'è quella relativa alle simulazioni in Vasca. Cosa sono le opere in Vasca? Semplicemente sono delle opere che ti permettono di capire quale sia l'interazione per esempio mare-fiume, non è stato fatto. Inoltre il via è un importante studio che ti permette di capire cosa succede anche a livello ambientale. Nel senso tu vai a alterare una foce di un fiume e vedi cosa succede a tutto l'abitato intorno. Cronaca, i carabinieri di Casarza Ligure hanno denunciato per furto un 42enne abitante nella provincia di La Spezia. L'uomo ha portato via un borsello contenente 300 euro di proprietà di una trentenne di chiavari rubato nei giorni scorsi all'interno di un bar. Siamo all'informazione religiosa. Al termine della giornata di preghiera e di digiuno per la pace indetta dal Papa a Genova si è svolta la via Crucis cittadina. Quest'anno, viste le cattive condizioni del tempo, il rito si è svolto all'interno della chiesa di Santa Zita. A presiedolo il Cardinale Angelo Bagnasco. Vediamo. Un gesto semplice raccolto. La via Crucis cittadina a Genova presieduta dal Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco si è rinnovata all'interno della chiesa di Santa Zita in un clima partecipato di preghiera. Il rito, ha sottolineato il Cardinale Bagnasco nella riflessione finale, ci richiama ad una maggiore fedeltà verso ciò che Dio ha compiuto per noi. Se fossimo meno distratti rispetto a ciò che Cristo, il Figlio di Dio, ha fatto per noi, fino a questo punto saremmo maggiormente protagonisti di pace, di conciliazione, di benevolenza. Saremmo operai della pace. Nella giornata in cui le chiese di tutto il mondo sono state invitate da Papa Francesco a chiedere a Dio il dono della pace, il Cardinale ha indicato le due strade preferenziali, strumenti nelle mani di tutti, in grado di contrastare il dilagare delle violenze. La prima. Pregare. Laddove noi non possiamo arrivare, può arrivare il dito di Dio. Ed è questa la forza della preghiera. In tempo di guerra, in tempo di pace. Il secondo impegno che ciascun fedele deve assumere è quello di essere operatore di pace negli ambienti in cui vive, per chi il bene possa dilagare. Ma anche qui dobbiamo non farci rubare la risposta dalla valanga di distrazioni che ci rincorrono, ci opprimono, ci invadono e ci violentano, è il crocifisso. È il mistero della croce che abbiamo ascoltato anche delle parole, dei commenti molto belli. Dobbiamo, guardando il crocifisso, lasciarci amare da Dio. Veniamo in Diocesi. La comunità ucraina si è ritrovata oggi a Chiavari per la festa dell'ortodossia, la più importante solennità della chiesa bizantina, ovvero dei cattolici che seguono il rito orientale. State vedendo le immagini. Un momento intenso di preghiera all'inizio della quaresima. Nella chiesa delle clarisse di Vientella è stata celebrata la divina liturgia con la benedizione delle icone. Al termine si è svolta la processione lungo Vientella e Piazza Roma, durante la quale è stata benedetta la città. A guidare la riflessione quest'anno, padre Basilio Bacley, sacerdote ucraino di Ternopil, è missionario della misericordia. Della situazione in Ucraina si parla poco, ha spiegato, soffre soltanto il 3% del paese, ma il riflesso ricade su tutta la popolazione. Le informazioni sono scarse, ha proseguito, e la gente non sa più a chi credere. Ne parleremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ora cambiamo tema. Questa mattina tutti gli alunni dell'Istituto Santa Marta di Chiavari si sono ritrovati nella cattedrale per la celebrazione della messa nel bicentenario dalla nascita del fondatore Tommaso Reggio. Il Vescovo ha preseduto la liturgia e ha richiamato il fondamento della vita e dell'opera del Beato, che si riassume in una frase da lui stesso pronunciata. Dio solo, basta. La sintesi nel servizio. C'è un legame profondo tra Chiavari e il Beato Tommaso Reggio. Lo ha richiamato il Vescovo Alberto Tanasini nell'omelia pronunciata in cattedrale in occasione del bicentenario dalla nascita del fondatore delle suore Santa Marta. Reggio, nato a Genova, fu giovanissimo rettore del seminario chiavarese per 5 anni dal 1845. Uomo e sacerdote, umile, semplice, buono, capace di incontrare tutte le persone senza badare a stanchezze, rimase legato a Chiavari anche negli anni successivi, quando divenne Vescovo di Ventimiglia e poi Arcivescovo di Genova. Fu proprio in questi anni che diede impulso alla nascita della diocesi di Chiavari, di cui fu il primo amministratore apostolico. Ma l'eredità più grande che ha lasciata questa giovane chiesa sono proprio le suore di Santa Marta, da reggio fondate a Ventimiglia e mandate in un primo momento perché si occupassero della casa delle orfanelle. La congregazione di Chiavari si staccò da quella originaria, seguita sempre con attenzione paterna e al tempo stesso esigente dal fondatore. La loro opera prosegue ancora oggi e nell'educazione ai ragazzi tiene fede alla proposta che Tommaso Reggio espresse con la sua vita e con le sue ultime parole pronunciate. Dio solo basta. Lui è stato qui, lui è stato in seminario e lui ha pensato alla diocesi prima ancora che ci pensassero dopo gli altri. E' stato lui a promuovere questa cosa e l'abbiamo presentato ai ragazzi come educatore, come giornalista perché lui è il fondatore del primo giornale cattolico italiano, come uomo di cultura ma soprattutto come uomo padre perché era vescovo, è stato vescovo a Ventimiglia prima che a Genova nel momento del terremoto e quindi abbiamo la documentazione di che cosa ha saputo fare lui nei momenti di emergenza. Ancora oggi insegna qualcosa Tommaso Reggio a questi ragazzi? Tommaso Reggio a questi ragazzi dovrebbe insegnare quanto è importante avere una cultura di base che diventi però una cultura che apre il cuore agli altri oltre che la mente anche il cuore quindi questo è il messaggio che cerchiamo di passare. Nell'ambito dei festeggiamenti per i 400 anni del convento dei frati Cappuccini di Monte Rosso al Mare domattina alle 10 sarà inaugurata una targa commemorativa. Seguirà la processione verso la chiesa parrocchiale. Alle 11 padre Mauro Iori, ministro generale dell'ordine dei frati minori Cappuccini presiederà la messa accompagnata dal coro di San Giovanni Battista. Al termine ci sarà il pranzo comunitario accompagnato da un momento di animazione e musica. L'ufficio Scuola della Diocesi di Chiavari organizza per domenica 11 di marzo una visita culturale e religiosa a Cremona. Partenza alle 7.20 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Giunti a Cremona si terrà un primo incontro con le monache domenicane di San Giuseppe al monastero di San Sigismondo. Seguirà la visita al centro di Cremona. Alle 14 la visita alla mostra dedicata a Don Primo Mazzolari e a seguire al battistero, alla cattedrale e alla chiesa di San Gerolamo. alle 17.15 la partenza per il rientro. Il contributo è di 25 euro e è escluso il pranzo che sarà libero. Chi desidera partecipare può rivolgersi all'ufficio diocesano Scuola aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9.45 alle 12 oppure telefonare al numero 335-6758-391. Le adesioni si raccolgono entro il 28 di febbraio. Il prossimo 28 febbraio si celebra la giornata delle malattie rare nata in ambito europeo nel 2008 oggi è un evento mondiale che vede la partecipazione di ben 85 paesi. L'obiettivo è di aumentare la consapevolezza sulle malattie rare e sull'impatto che hanno sulla vita delle famiglie. Domani a Genova si terrà uno spettacolo per sensibilizzare sul tema e per raccogliere fondi. Sentiamo. 300 milioni di persone nel mondo soffrono di una malattia rara. Il 28 febbraio sarà l'occasione per pensare a loro per rendere visibili come dice lo slogan di quest'anno i problemi che sono costretti ad affrontare e per essere al fianco degli enti che sostengono le famiglie e la ricerca come l'associazione sulle ali della fantasia che raccoglie fondi recitando e facendo divertire. Cerchiamo di darci da fare per aiutare chi ne ha bisogno non solo come raccolta fondi ma anche come visibilità nel senso che comunque creiamo degli eventi tramite i nostri spettacoli o altre iniziative con tanto impegno con un'arma segreta che è il cuore la passione e fortunatamente questi eventi sono seguiti da un bel pubblico. L'associazione è nata 19 anni fa quando le insegnanti della scuola materna parrocchiale San Giovanni Battista di Sestri Ponente chiesero ai genitori di mostrare ai propri figli che cosa significasse impegnarsi in qualcosa realizzando loro stessi la recita di fine anno. Da quel momento il gruppo ha trasformato il proprio hobby in un impegno sociale legato soprattutto all'ospedale Gaslini di Genova. La compagnia ha realizzato da allora decine di spettacoli con centinaia di rappresentazioni. Non c'è nessun professionista facciamo spettacoli teatrali in tutti i teatri di Genova migliori anche perché siamo guadagnati con i nostri risultati una bella credibilità che ci dà molta speranza per poterci sempre migliorare. Domani, domenica 25 febbraio alle 15 al Teatro Modena di Genova sulle ali della fantasia porterà in scena la magia di un sogno. Il 28 febbraio infine l'appuntamento sarà in centro a Genova. Ci vedremo con un stato di amici a Piazza dei Ferrari davanti alla Fontana a fare un flash mob dedicato alle malattie rare. Nei giorni scorsi all'ospedale Galliera di Genova si è svolto il primo corso di formazione e informazione sul tema epilessia e scuola organizzato grazie al protocollo d'intesa firmato dalle associazioni che si occupano di epilessia come la Lice e l'Aice e il Ministero dell'Istruzione coinvolti 100 docenti delle scuole Liguri. In Italia si tratta della seconda esperienza del genere dopo quella che si è svolta in Emilia-Romagna. I professori chiedono da tempo infatti di essere informati sulla malattia per essere capaci di riconoscerla e di affrontarla con consapevolezza. Presenti al Galliera lo avete visto nelle foto anche i responsabili dell'ufficio scolastico regionale e la presidente di Aice l'associazione italiana contro l'epilessia nonché promotrice dell'iniziativa Luigia Guglielmana. In questi giorni come sapete a Sestri Levante si è svolta la seconda edizione di Discovery Italy il workshop durante il quale si sono incontrate offerta e domanda in ambito turistico. Nell'ex convento dell'Annunziata una settantina di realtà la maggior parte delle quali Espressione del Tiguglio hanno messo in vetrina le bellezze del territorio presenti 40 tour operator provenienti da 19 nazioni. E rimanendo in tema oggi a Chiavari state vedendo le immagini nell'ex chiesa dei Filippini si è svolto un piccolo buffet organizzato dai ristoratori della città insieme ad alcune realtà tipiche del Chiavarese. E con questo momento conviviale si è così concluso il post tour del Meeting Swiss. Vedete le riprese appunto c'era Casoni il noto intagliatore del comune di Chiavari ma anche le sedie e le vaggi il macramè e così via. Siamo allo sport al calcio la Serie B la Virtus Entella ha conquistato un punto prezioso oggi in trasferta allo stadio Cabassi contro il Carpi è finita a 0-0. Per la terza gara consecutiva i bianco celesti non hanno subito reti. Un pareggio però che sta stretto vista la prestazione in campo dei giocatori di Mister Aglietti quasi sempre padroni del campo ma ancora con qualche difficoltà in zona gol. La Virtus Entella sale a 29 punti ora la testa va a martedì sera per il match casalingo contro il Cittadella. Ora sentiamo le dichiarazioni a fine gara. Abbiamo tenuto quasi sempre noi il pallino del gioco in mano purtroppo ai punti nel calcio non si vince bisogna segnare non ci siamo riusciti però a livello di prestazione a livello di personalità a livello insomma di crescita ho visto una prestazione importante è normale che bisogna continuare su questa strada però avere anche un pizzico anzi un po' più di un pizzico di cattiveria in più negli ultimi 20 metri perché lì ci arriviamo anche bene però poi ci manca il guizzo ripeto insomma resta un po' di rammarico perché con una prestazione così ecco bisognerebbe portare a casa tre punti. Oggi avete limitato quasi a zero l'offensività del Carpe a parte la giocata di Mbakoku nel finale di primo tempo non avete quasi mai sofferto sì esatto ha ragione insomma loro con due attaccanti forti come Melchiorri e Mbakoku c'è da stare sempre concentrati attenti e lo abbiamo fatto insomma avevamo lavorato molto su quelle che erano le situazioni che sviluppa il Carpe soprattutto nella fase di transizione quando si perde palla loro cercano subito queste verticalizzazioni però i tre dietro insomma sono stati molto bravi attenti hanno concesso zero quasi a due attaccanti molto bravi e niente avanti così perché abbiamo trovato anche una solidità da tre partite non stiamo prendendo gol bisognerebbe fare qualche golletto in più oggi era importante fare risultato perché il campo si sa che è difficile qui a Carpe quindi era importante per noi dare continuità alle due partite precedenti e abbiamo preparato molto bene durante la settimana che abbiamo provato a uscire a giocare da dietro e la maggior parte delle cose che abbiamo provato ci sono riuscite quindi vuol dire che lavorando si ottengono risultati sicuramente qualche rammario perché potevamo portare tutta la posta in pari a casa però va bene così i risultati di oggi della palla nuoto in A1 maschile la Proreco ha battuto la Reale Mutua Torino 16 a 2 in A1 femminile la Rapallo Palla Nuoto ha vinto in casa 11 a 8 contro il Messina infine la A2 maschile il Chiavari Nuoto ha perso in casa 11 a 6 contro il Crociera Stadium il Lavagna 90 che giocava in casa del plebiscito Padova ha pareggiato 12 a 12 ora vediamo gli appuntamenti per domani Appuntamenti in agenda per domenica 25 febbraio il Museo archeologico per la preistoria e la protostoria del Tiguglio è aperto anche la prima, terza e quinta domenica del mese appuntamento dalle 9 alle 14 nei locali di via Costa Guta 4 a Chiavari l'ingresso è gratuito come ogni domenica è aperto alle visite il Museo Diocesano le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari secondo appuntamento per gli itinerari storico-artistici e religiosi della Diocesi di Chiavari a partire dalle 15 a Rapallo nella chiesa parrocchiale la dottoressa Giuliana Algeri parlerà di San Michele di Pagana un presidio a Longobardo in riva al mare musica sacra al santuario di Montallegro dalle 15 e 30 a Vespro d'Organo con l'organista Guido Ferrari che eseguirà musiche di Bach, Brahms, Frescobaldi e altri compositori per la tredicesima edizione di Concerti Aperitivo alle 17 al Teatro Clarisse di Rapallo si esibirà il soprano Marianna Prizzon accompagnata al pianoforte da Maddalena Murari saranno eseguite musiche di Donisetti Puccini e Rossini ora vediamo gli appuntamenti per lunedì 26 febbraio nell'ambito degli incontri dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 nella sede di Villa Queirolo il docente Marco Martin terrà una lezione su il mondo dell'oratoria greca e romana alle origini dell'eloquenza della cultura occidentale e infine riprendono i corsi di cultura alle 16 nella sala livellare di Via Del Pino a Chiavari Silvana Rigobello leggera brani da Jean Saint-Huil di Marcel Proust Ancora un appuntamento prima di concludere la realtà virtuale per insegnare la sicurezza sulla strada da lunedì infatti gli studenti delle classi terze e quarte del caboto di Chiavari durante un ciclo di lezioni con i responsabili di un'autoscuola del Tiguglio potranno indossare degli occhiali speciali che faranno vivere loro virtualmente un'esperienza di guida un modo per capire in prima persona i pericoli legati ad una guida troppo disinvolta o con una percezione ridotta causata dall'uso di alcol o droghe al termine della lezione si terrà un quiz era l'ultima notizia del nostro telegiornale con l'informazione ci ritroviamo lunedì mattina alle 7.30 con il Buongiorno di Telepace per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com grazie per l'attenzione buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti grazie per la visione